2, 1, via, 200 attraverso appallamento, destra 6 lunga 100, sinistra 4 mezza lunga sul dosso salda, 200, in mezzo sul dosso forza salda, 150 attraverso appallamento in mezzo sul dosso 80, sinistra 5 mezza lunga sul punetto, 40, spocchio destra 5 sul dosso salda, continuando appallamento, piccolo dosso, 40, dopo un video sinistra per lunga. 100, salda dosso, destra 6 sul dosso salda, chiude 5 lunga 40, tieni sinistra sul dosso salda, 60 attraverso appunetto, attenzione in mezzo sul dosso, sinistra 6 centro, destra 6 sul dosso 80, nell'appallamento attenzione, forse saldo dosso.